Presentato nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, il piano triennale del Fabbisogno 2024-2026 del Comune di Taranto recentemente approvato dalla Giunta. L'ente procederà alla selezione e all'assunzione di 220 nuove unità, in particolare amministrativi e tecnici, che andranno a garantire il necessario turnover del personale. Ad illustrare nel dettaglio il piano il sindaco Rinaldo Melucci e l'assessore alle risorse umane Michele Mazzariello. In convenzione con la provincia proporremo di utilizzare intanto le graduatorie che verso la metà di marzo saranno pronte in provincia per alcune categorie di funzionari e di operatori. Quindi già dalla primavera inoltrata i primi incardinamenti nelle nostre direzioni, in quelle che hanno più esigenza rispetto ai servizi che vengono forniti all'utenza. Si parlava prima in conferenza stampa dei tributi, dell'anagrafe, tanti amministrativi, tanti tecnici che devono spingere la macchina, una macchina che nonostante l'essiguità di piante organiche e di risorse non si è mai fermata. Motivo per cui avevamo voglia oggi di ringraziare il grande lavoro degli uffici. 90 assunzioni in tre anni che fanno il paio con i 70 vigili urbani dell'anno scorso e con le altre quasi 300 assunzioni dal 2017 ad oggi. Insomma il Comune di Taranto insieme alla provincia che come sapete ha fatto un piano per un altro centinaio di operatori sul triennio credo che si sta confermando come uno dei più interessanti datori di lavoro, specie per i giovani, per le persone che hanno certe competenze più interessanti dell'area ionica. L'amministrazione attenta a queste dinamiche perché le risorse umane sono fondamentali e sono importanti per far camminare sia la macchina amministrativa sia gli enti. E comunque ringrazio tutta la mia direzione, le risorse umane, il dottor Stefano Lanza che fanno un lavoro importante. Quindi l'amministrazione non sta a guardare, l'amministrazione va avanti e continua il percorso iniziato nel 2017.